Viste un buon test contro un avversario forte di categoria superiore, è un'unica che ha fatto fatica anche per merito degli avversari. Sì, primo tempo loro meglio, perché noi eravamo un po' in fase di non possesso e abbiamo fatto bene, perché abbiamo tenuto bene il campo. In fase di possesso avevamo poca personalità nel cercare di giocare la palla, eravamo un po' timorosi. Poi nel secondo tempo invece ci siamo sciolti, abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo offeso meglio, l'abbiamo fatto bene e via. Sono contento, mi dispiace solo per la contusione che ha preso Fabinho, però è una contusione, non dovrebbe essere nulla di grave. Per il resto stanno tutti bene, quindi è stato importante perché abbiamo messo ulteriori minuti nelle gambe a più giocatori. Alcuni sono un po' più avanti, altri un po' meno. Alcuni giocatori ho dovuto tenerli perché non avevo sostituzioni, tipo Rizzo, tipo Urso, però hanno finito anche loro bene la partita dal punto di vista atletico e questo mi ha fatto piacere. Quale è la cosa che vi è piaciuta di più di questa partita? Mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi perché fanno quello che stiamo provando, sappiamo che dobbiamo migliorarsi in tutti i settori, sappiamo che abbiamo bisogno di innesti, lo sappiamo. Purtroppo però abbiamo anche qualche ciacco, vedi per esempio Adeggio, adesso è arrivato Fontanini che deve trovare la condizione un po' indietro. Però sono contento, mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto il secondo tempo, abbiamo cercato di giocare di più, senza timore, quello che avevamo il primo tempo. E quindi questa è stata la cosa più importante. La difficoltà più grossa per lei, almeno anche a vederli a Isola, è che ci sono tanti giocatori con varie condizioni, per cui per lei è un grosso problema. Sì, però io dico che comunque adesso domenica cominciano le partite importanti, però la madre delle partite è quella che giochiamo poi con il 27 con Carpi, quindi da qui arrivare abbiamo ancora 20 giorni, abbiamo tempo ancora a mettere ulteriore gamba nei nostri ragazzi, abbiamo modo di lavorare su dei concetti che lo stiamo già facendo. Il gruppo sarà più uniforme, sarà meno frastagliato, sarà più omogeneo e quindi abbiamo ancora tempo per arrivare al dunque, per avere una squadra sufficientemente coese e compatta. Ci sono le parti in cui vedi la difesa, ci devono giocare dei giovani che stanno facendo fatica. Abbiamo bisogno di mettere esperienza, abbiamo bisogno di mettere qualità, lo sappiamo, però sappiamo anche che dovevamo passare attraverso queste prestazioni, anche se il campo l'abbiamo mantenuto bene, giocando contro una squadra forte come il Pescara c'è un rischio di incombera in figure non piacevoli, invece abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo subito due gol evitabili, grandissime parate di Francesco Benussi, non ne ricordo, abbiamo subito un gol su calcio d'angolo che si poteva evitare, un calcio di rigore che mi pareva dubbio e quantomeno non era il caso di fare un fallo del genere, però dobbiamo passare anche attraverso questi errori per crescere. E quindi tutto sommato abbiamo fatto una buona figura, sapevamo delle difficoltà nostre, sapevamo che incontravamo una squadra già più coesa, già più rodata, però io sono contento perché comunque anche attraverso questi risultati e queste prestazioni ci cresce. Ultima cosa, un calendario, poi bisogna giocarle tutte, si dice sempre così, però è un avvio sulla carta, almeno difficile, il Carpi subito, poi la Spal, il Bari, insomma... Serie B, guarda, se mi avessero detto Formula Tech calendario non so chi avrei scelto per primo, quindi io penso che dobbiamo guardare in casa nostra e lavorare sugli uomini che abbiamo, cercare di portarli più possibili in condizioni e mettere dei giocatori laddove ci mancano, perché ancora noi dobbiamo completarci, il calcio mercato è aperto, la società lo sa e noi dobbiamo mettere giocatori dove abbiamo necessità. Lavorare, perché poi dopo dobbiamo lavorare, metterli assieme, creare un'unica identità. Quando faremo questo, lo stiamo facendo, dobbiamo continuare a farlo, quindi poi il calendario viene dopo, perché non so se sia meglio incontrare il Carpi o incontrare, che ne so, il Cittadella, sono tutte partite difficili, sia in casa che fuori, e quindi quello mi preoccupa di meno.